La scuola di Maria Regina della Pace, gennaio 1985. Vorrei che per voi questo sia un anno santo. Desidero che in quest'anno vi abbandoniate a me ancora di più. Pensate, io sono apparsa per la prima volta nell'anno 1981 e ora siamo nel 1985. Vedete da voi che ormai sono qui da lungo tempo. Ringraziate perciò Dio che mi permette di stare qui da tanto tempo. Ma nonostante un tempo così lungo, mi sembra che voi vi siate mossi molto poco. Perciò ora che comincia un nuovo anno, cominciate anche voi a muovervi. Io vi benedico. Vi ringrazio perché la vostra preghiera stasera ha reso felice il mio cuore. Ringrazio tutti quelli tra voi che si sono sacrificati per mio figlio Gesù durante questi giorni. Continuate così. Desidero che il gruppo sia aperto verso i fratelli e sorelle di tutto il mondo. Vi chiedo tre tipi di preghiera, personale, familiare e di gruppo. Qualche volta nel gruppo pregate a due a due. Per evitare di diventare impersonali nel gruppo, vi ho già detto ciò che è bene fare. Di tanto in tanto, scegliete qualcuno del gruppo col quale incontrarvi spesso per una settimana, così da approfondire il vostro rapporto d'amicizia. Incontratevi spesso per una settimana pregando e dialogando insieme. Se vi conoscerete meglio, pregherete meglio e il gruppo potrà crescere spiritualmente. Molti pregano e terminano la preghiera senza esservi mai entrati. Grazie a tutti quelli che stasera sono venuti a pregare e grazie anche a quelli che non sono potuti venire. Dio Padre è bontà infinita e misericordia e dona sempre il perdono a chi glielo domanda col cuore. Pregatelo spesso con queste parole. Dio mio, io so che sono grandi e numerosi i miei peccati contro il tuo amore, ma io spero che tu mi perdonerai. Sono pronto a perdonare a tutti, all'amico come al nemico. O Padre, io spero in te e desidero vivere sempre nella speranza del tuo perdono. Sono dispiaciuta per quel piccolo litigio che l'ultima volta c'è stato tra di voi. Voglio che ciò non si ripeta più. Da un unico gruppo vi sono di fatto formati vari gruppetti perché vi siete divisi. Voi non avete amore gli uni verso gli altri. Vi siete insuperbiti e in voi non c'è più umiltà. Per questo sono triste. Vi prego di nuovo di essere un gruppo unito e unico. E che vi ammiate reciprocamente sempre e siate umili. Io amo il vostro gruppo, che mi è particolarmente caro. Vorrei che ciascuno del gruppo si abbandoni a me e mi apri il cuore sempre di più, manifestandomi tutti i propri problemi. E desidero che il gruppo chieda la mia benedizione perché questa gli è necessaria. Cari figli, cercate di capire che ciascuno di voi deve avere una spina spirituale la cui sofferenza lo accompagnerà fino a Dio. Cari figli, voglio avvertirvi che Satana lotta con violenza, specie in questi giorni, per portarvi completamente via da me e dal mio amore. Ma voi non glielo permettete. Pregate con ardore e amatevi gli uni gli altri. Siate umili e così egli non potrà neanche avvicinarsi a voi. Figli miei, io vi amo. Vi amo di un amore senza limiti, senza confini. Vorrei che comprendeste il mio amore e l'amore di Dio. Desidero che ciascun membro del gruppo vada da solo all'aperto in mezzo alla natura per contemplare Dio attraverso la natura. Lì preghi da solo e poi raccolgo un fiore, una foglia o qualunque altra cosa che attiri la sua attenzione e la porti con sé alla prossima riunione del gruppo. Qualunque cosa facciate, fatela con amore. Fate tutto secondo la volontà di Dio.